Alì al lopo alle che ci hanno un sere e youtube canale che è un nuovo avventur per noi, siamo in Slovakia, in Ostslovakia, in Kosice, in questo è un bellissimo hotel, e siamo in International Hot Air Balloon Fiesta 2018, siamo in gestern fuori, matti, 6. e 2018, il primo ballonfall e il primo, non è stato fatto, ma è stato fatto in un fatti di vento, ma oggi è iniziato, ma oggi è iniziato, e stiamo via in Koshice e ci siamo in questa scena regione. a presto Sì, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Sì, oggi è freddo il mattino, fino adesso siamo già due volte è stato un bel gioco non si può fare un gioco non si può fare un gioco il gioco il gioco il gioco davvero super il primo gioco è stato in una cigure cigure e un gioco e un gioco un gioco con un gioco circa 100 gioco è stato davvero divertente in 10 minuti e ora aspettiamo per il gioco qui ci sono un gioco e quindi il gioco il gioco il gioco ora ora abbiamo un gioco un gioco un gioco un gioco ora ora il gioco nel gioco il gioco il gioco artigo e fino a sonntag siamo ancora qui non c'è nulla Oh no, oh no, oh no, gonna make you down Oh no, oh no, nothing's gonna ever keep you down Oh no, oh no, nothing's gonna, nothing's gonna make you down Guten Morgen von Koshice, Ahoi!